È un piacere viaggiare questo video da Valdobbi Atene, dal top della stella di Kartizze. Kartizze è la migliore stella nella area Prosecco. La area Prosecco è una area di 28.000 hectare. Questi 28.000 hectare sono diviati in tre parti. Il DOC, che è 20.000 hectare, la maggior parte dell'area, nella regione. Il Prosecco Superiore, che è anche chiamato Valdobbi Atene, Conegliano e Asolo. Ma il semplice è il Prosecco Superiore, che è solo nella regione di Conegliano, Valdobbi Atene e Asolo. Questa area ha circa 8.000 hectare. E c'è la Kartizze. La Kartizze è una palla molto piccola. È la palla in cui sono ora. La mia famiglia ha sviluppato la palla di 21 generazioni, da 1542. e in questa palla la produzione è molto piccola, perché è una palla di solo 106 hectare. Quindi ogni 500 palla di Prosecco, in total, la produzione dell'area, c'è solo una palla di Kartizze. Sono molto orgoglioso di essere qui e di mandare questo messaggio a voi, in particolare in questo momento del vostro nuovo challenge, di introdurre l'italiano stile di vino nel vostro mercato. Per introdurre la mia famiglia, io e il mio fratello, Desiderio, siamo molto pieni di passione per la nostra vinaiglia. Siamo una delle piccole vinerie nel mondo del Prosecco, che può avere la propria vinaiglia. Siamo 77 hectare, e c'è molto in questa area, perché è un'area in cui ci sono molti piccoli vinaigli, e abbiamo 77 hectare in 20 diverse palla. E queste 20 diverse palla ci permettono di creare qualcosa di molto diverso, perché vogliamo esprimere i diversi tipi di soli che le nostre palla hanno. Quindi, anche per creare una cuvée per il GEO, per esempio. GEO è il nome del mio fratello, Desiderio. Abbiamo dedicato a lui questa scelta di filosofia per il Prosecco, che ha la scelta di avere tre tipi di soli, non solo uno. E il Bizzol è un solo vinaiglia. Il Bizzol è solo il più stile, il più stile, e il miglior vinaiglia che abbiamo in Valdobbiadene. Quindi abbiamo una scelta di Prosecco che, sono sicuro che ci aiuterà a essere orgogliosi del vino di Italia. La prossima volta, spero che possiamo stare insieme all'interno di questa tavola, quando ci saranno in Italia per visitare la mia tavola. e io e il mio fratello sarebbero molto felici di avere voi, i nostri chiesti, e cominciano come una famiglia, all'interno di questa tavola. Questa tavola è molto bella, anche perché ci sono le distanze. Questo è l'est, l'nord, l'ovest e l'est. e ci sono le distanze da le grandi città del mondo. Per esempio, in questa tavola c'è Vienne, 400 km. In questa tavola c'è Trieste. In questa tavola c'è Atene, 1200 km. Venice, 56 km. In questa tavola c'è New York. In questa tavola c'è Miami. In questa tavola c'è San Francisco, Denver. tutte le città in cui spero di stare insieme per presentare la mia tavola al mercato. E ti assurro di tutto il mio supporto. Quando ti vogliono, vado al mercato, per andare con te, con i clienti, e per raccontare la storia della mia famiglia e la qualità dei miei vini. Grazie mille. Grazie mille.